Inizierà il prossimo 2 febbraio davanti alla corte d'assise di Frosinone il processo con irrito immediato per Roberto Toson e suo figlio Mattia, accusati di avere assassinato il 19enne Thomas Bricca con un colpo di pistola esploso da uno scooter T-Max la sera del 30 gennaio scorso nel centro storico di Alatri per vendicare due risse avvenute nei giorni precedenti e alle quali il ragazzo non aveva partecipato. Quella sera, sostiene il capo d'accusa, era stato scambiato per un suo amico che indossava un giubbino dello stesso colore di Thomas. A chiedere il processo inassise con irrito immediato che salta l'udienza preliminare è stata la procura della Repubblica di Frosinone. Il sostituto procuratore Rossella Ricca ritiene da avere indizi e fonti di prova inconfutabili che consentano di saltare il filtro del GUP, elementi che sono già stati vagliati dal Tribunale del Riesame che ha confermato il carcere per padre e figlio.